Il decreto Emergenze Genova è in commissione, ma non si parla assolutamente del capoluogo di regione e delle sue tante emergenze. Così, in conferenza stampa, la deputata Stefania Pezzopane del Partito Democratico ha presentato un vero e proprio dossier, fatto di emendamenti e tanti richiami all'attuale governo per far sì che le questioni ancora aperte che riguardano la città siano inserite. Presente anche l'ex sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, una battaglia che la Pezzopane non vuole assolutamente arrestare. L'Aquila è uscita dall'agenda politica, questo è un fatto purtroppo, ormai consolidato, non eravamo nel decreto primo, terremoto a luglio, poi nel milleproro che è stata una faticaccia a inserire qualcosa, addirittura qui arriviamo con il decreto Genova, che pensavamo fosse esclusivo su Genova, no, ci sono altre emergenze, c'è Ischia, c'è il centro Italia, ci sono miglia altre cose, ma non c'è il terremoto dell'Aquila, è questo fatto di una gravità inaudita, adesso lo dobbiamo reinserire. Prima cosa ho chiesto tra le audizioni di inserire il sindaco dell'Aquila e mi hanno detto ma non si parla dell'Aquila perché dobbiamo reinserirlo, io ho insistito e alla fine sarà udito anche il sindaco dell'Aquila assieme al presidente della regione Giovanni Lolli in maniera che sarò supportata in questa azione e poi ci sono le questioni importanti, innanzitutto sospensione tasse, oltre le proroghe è necessario risolvere questo problema prima delle elezioni europee, noi non sappiamo che quadro avremo dopo le elezioni europee, quali saranno gli equilibri, va risolto assolutamente prima e questo è il veicolo giusto. Poi abbiamo le questioni del personale, le questioni del personale più volte anche in qualche modo sollecitate dal sindaco e che però qui non trovano risposta, gli emendamenti al mille proroghe sono stati tutti bocciati, non si permettano di farlo anche in questo decreto. Poi ci sono le questioni della governance, non abbiamo il sottosegretario, non abbiamo l'unità di missione perché è stata prorogata per un solo mese, ma cosa vogliono fare di noi, veramente cancellarci? Noi ovviamente ci ribelliamo, presenteremo emendamenti e farò la mia battaglia.